musica 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 allora c'è tutti i miei finali ma devo parla anch'io? si ciao a tutti i miei finali e bentornati in questo canale no ma io non sono del canale aia ciao a tutti i miei finali e bentornati in questo canale dai ma io mi sentivo imbarazzo però non ho devi farlo, solo che cazzo cos'è che è? ciao a tutti i miei finali e bentornati in questo canale 3 2 1 ciao a tutti i miei finali 3 2 1 ciao a tutti i miei finali e bentornati in questo nuovo video allora lei è Emma vi taggo qua il suo profilo instagram fa tanta ansia di parlare a una macchinetta non ti senti psicopatica? no non mi sento psicopatica e oggi come avete letto dal titolo faremo un video che è praticamente quanto l'una conosce il cavallo dell'altra ci siamo preparati 10 domande proprio stamattina immediatamente e adesso dovremo rispondere a queste domande basta puoi dire qualcosa? ciao e cosa devo dire? va bene va bene ok quindi il mio cavallo si chiama Artur il suo quinsilver è un saurone un gigante il mio confronto è un nano è a posto ecco possiamo iniziare col video ma inizio io iniziamo? uguale bello posso avere risposte eh? dai inizio io vai allora quando l'ho preso giorno mese anno? allora il 25 si settembre si 17 wow brava azzeccata allora la mia prima domanda è quanto è alto quina garese? eh ah beh è circa un metro e ottantadue e adesso? no un po' meno un metro e 78 più o meno si non so non è tanto più alto del tuo eh beh insomma non posso dire quanto è alto ah ok cioè ok beh si ma se Gregorio era un metro e 85 e allora è un metro e 80 esatto tagliare facciamo allora quanto è alto un metro e 80 brava sai che io non la taglio è un mostarda e dove è nato e quando e che razza è? allora è un sale italiana si dove è nato? mh matti con l'allevamento o il posto città? entrambi se vuoi allora è nato a Verona? no 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 in Emilia in Emilia in Emilia Romagna si Serbia è il mio posto che sono in Emilia viva la geografia ragazzi e vabbè e dai semplice semplice non prendermi in dire dai io non lo so io non so non so la data cosa è nato? quando è nato? il 18 marzo apri oh il 18 aprile del 2004 ok almeno l'allevamento eh cosa Martini? Andrea Martini comunque è nata a Ravenna Ravenna io perché mi ricordavo Verona? boh è nata male vai i nomi dei suoi genitori ah allora dai te l'ho detto un miliardi e mezzo di volte se non ti ricordi hai proprio l'Alzheimer probabile ehm dai Aurora dammi un indizio la mamma no guarda non ci avrei mai preso la mamma inizia con la D d di 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 ampere la di 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 io mi ricordavo che ero nata in gel e il papà non me lo ricordi ma Oregon ora ti ricordi che ho i genitori al tu allora eh ma l'ho aggiunta non c'è scritta allora quante balsane ha? tre in quale non c'è ha oddio sull'antiniore destro oh ci hai preso comunque ho visto che hai detto so chi sono ti giuro mi sono andata tanto a ricordo non ho guardato ma per lei anche più si si vabbè ma non ho guardato dietro comunque hai visto che hai detto che sai chi sono in gelitori al tu chi sono? allora chichi da debaughi e anexpress piece oh grazie sono io che faccio il mio peschio tocca a me tocca a me vai allora dove hai nato? città in Sardegna a è facile te l'ho detto anche questo speri che non l'hai fatta partire sai che ride? no è andato ok ehm o no non lo so dov'è nato oristano e poi oristano è nato raga faccio schifo ha qualche segno particolare in faccia si si cosa e dove ha tipo una stellina una stella si dove? in testa? si ma cos'è? c'è è leggermente pendente a destra oh grande non la conosce meglio il mio cavallo di me ok vai dentro raga faccio schifo schifo quante balzane hai dove? qui mi ha due ho già male una si e nel aspetta se c'è se tu fossi qui non devi dire qual è anche niente ho messo così ehm poi può essere anche messo così anteriore e posteriore e cosa devo dirti tutto? no posteriore posteriore? eh non so avete due ho detto sinistro eh provo a dire a caso sinistro oh si bam è andato a caso qua non è che si viene del posteriore ehm quante volte si è fatto male e in che situazione? questa qua è quella lunga eterna ecco quella lunga eterna l'hai si fatto male la prima volta? dimmi prima quante volte ehm tre si la prima volta? la prima volta era l'anno scorso quando si è fatto male al ginocchio due anni fa si vabbè due anni fa e non era al ginocchio e in che situazione era? era tipo estate si ed era prima dei campionati regionali estivi si duemila e? duemila e diciotto ok e la seconda è stata ehm quest'anno no ce n'è stata una prima ma non si è fatto male ha avuto qualcosa lui? ha avuto qualcosa lui? mh cosa soffre il mio cavallo? vecidosi ecco ha avuto? un attacco vecidosi ok la terza? eh ma vabbè allora io contavo due perchè io intendevo che è stato proprio fermo e allora due? eh allora due e allora due e la mia oddio spazzatino la terza la terza allora e quest'anno cioè in realtà a novembre ottobre ottobre e in che situazione era? prima dei triventi io e i campionati abbiamo un amore eterno ok vai allora questa è lunghetta quando l'ho conosciuto e è stato amore a prima vista? allora no non è stato amore a prima vista perchè all'inizio ti stava proprio in culo cioè ti stavamo antipatico l'hai conosciuto vabbè in maneggio perchè era della Laura e ti stava proprio antipatico cioè non ti dava niente ma spiega un po' eh vabbè allora perché mordeva sgruppava ma non è bello allora in realtà mi piaceva esteticamente però caratterialmente no però caratterialmente no perchè mordeva e mi stava un sacco antipatico solo la prima volta che l'ho montato eh non mi piaceva perchè eh andava troppo lento la seconda volta che l'ho montato che è stata seria eh mi piaceva un sacco il salto ma caratterialmente zero e poi cos'ero me le avevi ditte eh vabbè c'eri anche tu eh quando quando lo montavo si ma c'ho una memoria che neanche 2 più 2 mi ricordo esatto e vabbè poi l'ho conosciuto un po' caratterialmente e mi sono immaginata amore amore eh quanti eliminati abbiamo fatto in concorso? eh adesso dai spara un numero a caso ti do tre opzioni tre opzioni cinque cinque quattro sei cinque 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 quattro sei sei no quattro si ah per quattro poi dai con altro si campionati quelli invernali cattolica i ho fatto zero eliminato i campionati triveniti e poi ne avrà fatto uno durante il progetto sport del 2018 sicuro si mi ha dato lo schivo allora vai da che giorno è mio? allora perché eravamo in scala uno era il 24 il 26 marzo 2018 brava dai wow almeno questa eh scusa eh di chi era prima in che categoria faceva? era della fede si e faceva le venticinque venti qual'è il massimo che ho fatto in concorso? trentacinque brava ma cosa sono? eh ma scarso scarsa ma per finta si vai ah sai ho appena risposto alla mia domanda magari dice distanze comode o corte? comode tutta la vita tutta la vita quindi ehm quanto è alto più o meno? ecco un metro e settanta cioè un metro e sessantotto e un metro e sessantotto stavo dicendo un metro e sessantotto allora è dieci centimetri più basso cioè voglio dire tanto tra un metro e sessantotto e un metro e sessantotto che fate finta che io sia una voce che stia parlando su per il video non so perchè la videocamera si è spenta stavo tipo si è spenta un po' più avanti ma invece no e quindi si è cancellata una domanda della Emma e quindi non la conteremo però sappiate che si è spenta la videocamera quindi c'era una domanda lei mezza ma si è cancellata ma va bene voi potete vedere il video spero che vi piaccia vai allora non è successo niente dai ma dove eravamo almeno? eravamo nel maneggio vecchio si in che campo? grande e quante volte ho saltato? eh due no tre forse ma intendi io intendo quanti giorni quante ah quanti giorni, quante volte due si perchè il primo giorno ce l'ho messa normale da sola poi ce l'ho messa in percorso vai roccio prima che si spenga anche questo si raga si era appena più spento categoria più alta fatta con lui 115 dai scusa ehm questa è la mia ultima qual è il voto più alto e quello più basso che abbiamo preso nello stile? no no oddio tipo più alto tipo 75 e 16 e 12 e vabbè dai c'era c'era e quello più basso? 59 no più basso più basso 56 più basso 52 più basso 50 e 2 porca ti ricordi che nel 2018 io ero stile erano due cose diverse? mi stavo in culetto un po' si a quanti anni è arrivato in veneto? allora quando c'era la laurea ero ancora più dietro boh a 5 6 6 non te la contiamo questa ma io non ho contato i punti e li conterai mille di t no non li conto i punti che palle tanto sicura hai vinto te cioè appena amici il video è finito ho fatto letteralmente schifo io lei è molto più brava conosce meglio il mio cavallo e basta speriamo che questo video vi sia piaciuto se è così lasciate un pollice in su iscrivetevi al canale attivate la campanella per sapere quando posso le mie mille cagate commentate con chi ha il cavallo più figo io vi lasceremo due foto adesso le ding ding farò tutto io adesso metti la foto più brutta di qui perchè dicono al tuo no eee boh ho scritto adesso tu hai ragione ok e basta un bacione e ci vediamo al prossimo video ciao ciao